La situazione è sempre peggio. Non si ferma la restrizione del credito alle imprese. Un sondaggio di Confindustria Padova registra un giro di vite per l'accesso al credito. Solo negli ultimi sei mesi il 50% delle imprese padovane ha notato un netto peggioramento dei rapporti con le banche. A farne maggiormente le spese sono le piccole aziende. La categoria accusa gli istituti di credito di scarsa comprensione verso le esigenze delle imprese. L'atteggiamento pretestuoso delle banche comporta costi elevati di credito ed eccessive garanzie richieste. La Confindustria di Padova nota con preoccupazione che nell'ultimo periodo le banche hanno respinto quasi il 20% delle richieste di credito presentate dalle aziende. Si attesta invece al 40% la quota delle imprese cui il prestito è stato concesso ma a condizioni molto più svantaggiose, con un incremento sia delle garanzie che dei costi. Il 20% di quanti avevano già ricevuto il credito si è visto poi ridurre l'importo concesso aumentando così l'incertezza sulla liquidità disponibile in futuro.